Quello che abbiamo constatato secondo me è che invece purtroppo è stato molto poco considerato in questi ultimi vent'anni o comunque addirittura da quando è stato iniziato il decentramento amministrativo a Milano. Questo attuale decentramento c'è dal 99-2000, quindi ormai sono 13 anni, e ha un regolamento che è abbastanza buono ma dovrebbe essere aggiornato. Naturalmente, come già stato detto, ci aspettiamo che mano a mano arrivino nuove competenze. È molto importante perché può incidere anche sull'ambiente, per esempio, che è comunque il nostro tema fondamentale. Io personalmente ho prodotto molte interrogazioni, soprattutto sulle problematiche di amianto, quindi ormai sono a 25 casi circa. Li ho segnalati e sto insistendo perché se arrivi a ottenere un intervento, che cosa vuol dire? Che i proprietari, comunque se si tratta di edifici privati, devono pagare l'intervento di rimozione e di modifica, anche se ci possono essere delle facilitazioni da parte delle istituzioni. Il comune si deve attivare in base a un protocollo che è stato creato nel 2008 di intesa con ARPA e ASL, quindi anche con la regione, da un certo punto di vista. Questo è fondamentale, una battaglia che tutti nelle zone abbiamo portato avanti. Nella mia zona, nel sud di Milano in particolare, ci sono molti edifici, perché c'erano molte fabbriche che poi mano a mano magari sono fallite, eccetera, officine, c'è di tutto, insomma. E questo si unisce a un degrado generale dovuto anche al fatto che l'istituzione comune per moltissimi anni ha lasciato un degrado anche da altri punti di vista, di sessi stradali, per esempio. Ho interrogato su piazze e vie che non ricevono manutenzione magari da molto tempo, poi ultimamente ho visto qualche intervento stradale, mi fa piacere. Comunque è molto importante insistere su tutti gli argomenti, avere molta pazienza e continuare a portarli avanti, perché poi alla fine l'esistenza paga in qualche modo. Però ovviamente ci vuole tempo, ci vuole pazienza, bisogna dedicare molto tempo al di fuori della propria attività lavorativa e comunque continuerò in questo senso. Oltre a questo mi è sembrato molto importante da parte sia della mia zona che delle altre zone il fatto di portare avanti l'esigenza di avere un kit di videoripresa nelle zone. Cioè, proprio per far conoscere di più ai cittadini questo strumento, è una lacuna molto forte, perché non abbiamo un sistema di videoripresa nelle zone, in modo che tutti i cittadini delle zone possano vedere i consigli di zona indifferita, magari comodamente da casa, via internet. Proprio per il fatto che evidentemente il Comune non ha dato negli ultimi anni, o addirittura decenni, importanza alle zone. Oltre a questo, l'atto economico per quello che riguarda le risorse delle circoscrizioni, personalmente ho chiesto che venissero pubblicati i dati, quindi il bilancio della zona, e tornendo queste informazioni ai giornali di zona sono riuscito ad arrivare alla pubblicazione di questi dati, cosa che prima non avveniva. E quindi in questo senso spero di poter continuare nel cercare di informare i cittadini, per noi è fondamentale. Cioè, perché il cittadino deve essere sempre una persona che purtroppo ignora molti aspetti politici ed economici della circoscrizione. Mano a mano noi forniamo tutte le informazioni che prima venivano considerate solo sotto tutela delle richieste agli atti, quindi un singolo cittadino che fa una richiesta agli atti allo sportello protocollo, che noi invece consideriamo normalmente pubblicabili, perché è in pieno diritto della cittadinanza. Quindi speriamo di continuare in questo senso. Grazie. Ciao a tutti. Mi spiace che siete qua tutti quanti con la stagione di sole di domenica pomeriggio, però insomma ci tocca. Io sono il compagno di Massimiliano, lo affianco nelle commissioni, sono il secondo consigliere eletto in zona 5, ho contato 43 preferenze, è stata una cosa un po' che mi è arrivata tra capo e collo, ho sempre fatto politica fuori dai partiti, ma nel quartiere mi sono sempre impegnato affinché il verde venisse rispettato, amo gli animali e i cani, ho fatto costruire finalmente dopo tanti anni un'area cani nella mia zona prima di diventare consigliere da cittadino, faccio un insegnante, collaboro con il dirigente scolastico e sono l'RSU della mia scuola del centro di Milano. Questa cosa mi assorbe parecchio tempo, anche pomeriggio, mi chiamano anche di notte, ci sono le occupazioni, però cerco di dedicare parecchio tempo anche al consiglio di zona. Ho una percentuale abbastanza alta, sarò mancato a uno o due consigli di zona negli ultimi sei mesi e ho due o tre commissioni. Mi occupo principalmente di ambiente, quindi di parchi e giardini, intanto che mi hanno nominato vicepresidente della commissione verde agricoltura, anche se in questi 25 anni mai nessun politico dell'opposizione è uscito a tenere questo successo. Questo non so se grazie ai meriti, è un impazzimento o comunque è una collaborazione che io trovo importante tra maggioranza e opposizione. Se sono delle cose che vanno bene noi siamo pronti a dire sì. Se mi fanno delle cose fatte bene, ad esempio abbiamo appena messo giù 30 alberi nel parco di Chiesa Rossa, questo è un impegno che abbiamo preso, mi sembra giusto che sia stato pronto avanti, così come anche la ristrutturazione della cascina e tutte queste cose interessanti. Sono anche nella commissione educazione e istruzione, cerco di collaborare, faccio parte del tavolo della ciclabilità perché sono ciclista appassionato e finalmente dopo tantissimi anni forse metteremo in piedi una pista ciclabile che congiunga il Grattosoglio, cioè la zona sud più estrema, al centro di Milano. È un percorso che facciamo tutti quanti noi nel tempo libero anche per andare al lavoro, l'hanno presa in considerazione anche l'AMAT, l'associazione milanese per la mobilità che ha ricevuto l'appalto della Comune di Milano e siamo in trattativa per sviluppare questo progetto. Speriamo di portarlo a termine entro i cinque anni. Sono cose molto lunghe perché comunque per fare un chilometro sia giù dal Marciapiede che su Marciapiede sono migliaia di euro che vanno via, quindi è un progetto che costerà quasi 500 mila euro, per cui soldi non ce ne sono, voi sapete che siamo in crisi totale, per cui continuiamo a rimandare. C'è questo tavolo aperto anche alla cittadinanza, infatti invito, adesso martedì sera abbiamo un incontro alle nove, chi potesse venire per dare il suo contributo. Poi altre cose, sono anche padre di due bambini, quindi mi interessano molto i problemi degli asili della zona e delle scuole, quindi cerchiamo di fare il possibile. Abbiamo cercato di, adesso c'è questo progetto, il Car Free, praticamente le zone più convulse che hanno anche delle scuole all'interno, si possono chiudere al traffico cittadino. Eravamo riusciti a individuare una via nella nostra zona, purtroppo è andata male perché i genitori che portano i bambini da un vecchio asilo che hanno chiuso per l'istrutturazione della zona 6, da via Rimini, si sono lamentati perché i mezzi pubblici non ci sono, perché c'è di mezzo il naviglio, quindi giocoforza dovevano venire in macchina, quindi quella zona non si può più, quindi noi nella zona di fatto adesso non abbiamo nessuna zona Car Free. Il Comune di Milano dice che deve ampliarle queste cose, però per il momento ancora non si vedono. Per il resto cerchiamo di collaborare al meglio, anche se in effetti il Consiglio di zona è un po' lo specchio del Paese, se noi vediamo il Parlamento e il Consiglio di zona è la stessa cosa, opposizione e maggioranza fanno un po' il gioco delle parti, un po' il teatrino della politica classico, gente che esce appena scatta la mezz'ora, perché voi sapete che ogni commissione è retribuita con un gettone di 50 euro lordi o netti, non mi ricordo, praticamente se tu fai 31 minuti scatta il gettone, quindi anche se l'argomento è in piena discussione, bisogna ancora deliberare, bisogna ancora votare, c'è della gente che prende al 31esimo minuto e scappa via, c'è firma e va via, è una cosa allucinante, invece poi c'è gente che magari fa fatica ad arrivare in tempo, magari poi perde il gettone perché arriva tardi dal lavoro e magari poi si ferma lì anche oltre l'orario, però queste sono le cose classiche dell'Italia che vanno denunciate. Io ho presentato anche delle mozioni, molto interessante una mozione che ho presentato ultimamente sulla calendarizzazione degli incontri, in pratica noi non sappiamo ancora il venerdì tutte le commissioni che dovremmo fare la settimana successiva, mi sembra una cosa al di fuori dal mondo, finalmente siamo usciti a ottenere la convocazione via mail e non più cartacea, quindi risparmi di carta, ma ancora non riusciamo a ottenere l'accensione dei videoproiettori per far scorrere su dei monitor, sugli schermi come questo qui, l'ordine del giorno, quindi dobbiamo stamparci ancora gli ordini del giorno, il pubblico comunque è sempre, devo dire, poco presente, forse perché non c'è informazione, dovremmo fare un po' di volantinaggio in giro, il web a volte non arriva ovunque, c'è gente che non non è neanche il pc, gente anziana, cose di questo genere, per cui passo la parola alla zona 6, Claudio. Ciao a tutti, io sono Claudio Rovelli, portavoce della zona 6, per dare un'idea, la zona 6 è lo spicchietto che parte da Porta Genova, copre la Barona, l'Orenteggio, è uno spicchietto di 160.000 abitanti, siamo attorno a Reggio Emilia, Parma, per dare l'idea delle dimensioni del numero di abitanti di questi spicchietti di città, che giustamente come era stato detto prima devono essere potenziati, non tolti, perché molti dicono che non siamo niente e li togliamo, no, perché il primo sportello, passatemi il termine, il primo organo politico vicino ai cittadini, se uno ha un problema dove va? Dove va? In Parlamento, in Regioni, in Provincia, no, va dove ha la possibilità di avere delle risposte più vicino a casa, talmente semplice, ecco perché bisogna potenziarli, potenziali vuol dire fare in modo che hanno dei pareri vincolanti, quante volte siete in campagna elettorale, pareri vincolanti, però di fatto vincolanti non sono a distanza di tempo, ecco, ma perché non sono vincolanti? Perché l'assessore deve mettere parola e decidere, no? E quindi noi vediamo che all'interno del Consiglio di zona ci si sconfronta, si perdono anche delle ore, si delibera e l'assessore fa quello che vuole, bello, veramente umiliante. C'è un altro aspetto umiliante, dove i cittadini ci informano di quello che accade nella zona, sì, per forza, perché ovviamente uno quando scende da casa sa sicuramente di più lui che non un altro che abita un chilometro, quindi ecco perché è importante l'occhio dei cittadini, perché è da lì che ci arrivano gli input per portare in consiglio quelle che sono le problematiche. Questo cosa vuol dire? Non è che non si è risolto nulla, no, serve per fare una, così, riflettere su quali sono i problemi e cercare di portare a soluzione, non è cosa facile, noi ci scontriamo con la burocrazia e col linguaggio politichese che ci fa perdere del tempo, sono due le cose, cioè non sono delle riunioni di lavoro dove dire c'è un problema come lo risolviamo, no, più delle volte di tu sei più bello, io sono più brutto, quando c'eri prima tu, quando c'era prima quell'altro e si perde del tempo, no? Ovvio che i cittadini sono lontani da questa istituzione perché se si lavora così uno dice ma io dopo tutta una giornata lavorativa che cosa faccio, vengo qua a perdere tempo? Ed è giusta questa riflessione. a parer mio una pubblica amministrazione seria coinvolge le risorse pubbliche dove c'è il problema, in tutte le zone abbiamo visto che c'è la presenza di amianto, no? La gente muore e però facciamo l'expo, è certo, però i milioni di euro ci sono per fare queste cose, poi in altre dove c'è l'urgenza di intervenire, le cose rimangono lì come sono da anni, no? molti cittadini sono morti per il mesotelioma alla pleura, cioè stiamo parlando di cose molto serie e delicate, ecco, e quindi non fatevi forviare da chi dice i soldi non ce ne sono, ci sono i soldi, ci sono i soldi, purtroppo vengono convogliati male, ecco questa è la prima riflessione. L'aiuto da padre degli attivisti che io ringrazio è fondamentale perché uno contro 40 consiglieri non è semplice e poi sono talmente le cose, sono talmente tante le cose da portare, si parla dall'incrocio pericoloso, all'amianto, alle infiltrazioni delle case popolari, la zona 6 è quella che ha maggior presenza di edilizia pubblica residenziale, che cade a pezzi, però cosa fanno? Costruiscono del nuovo, dico ma porca misera, si hai delle risorse, le prendi e metti a posto quello che hai già, non porti via al verde, no? E però la classe A, si riempiono la bocca, la classe A, la classe A anche comunque è un modo per portare via il verde, allora quelli che sono in classe G li porti in classe A e già è un approccio un po' più attento a quello che è l'ambiente e non togli verde, in tutte le zone comunque il PGT costruiranno, costruiranno gli scali ferroviari, noi ci siamo espressi in un referendum, noi come i cittadini per dire più aree verdi, no signore, PGT, tutti gli scali ferroviari, noi ne abbiamo due, altre zone ce ne sono uno, li edificheranno e via, colate di cemento e questo non è proporzionale a quello che è stato detto ma al modo che si ha di gestire la città, l'inquinamento anche acustico ma l'inquinamento atmosferico è all'ordine del giorno, sforamenti ogni giorno e si porta via il verde, il verde è la risposta più semplice che assorba le polveri sottili, non perché noi siamo estremisti legati all'ambiente, ma è per quello, quindi per noi rimane un dovere morale comunque fare in modo di disturbare il manovratore, ma lo facciamo non solo presentando le cose in aula, ma anche presentando della documentazione che servono i comitati che non hanno risposta per mandare questa documentazione in procura, ma immaginate che voi, il cittadino che chiede, e questi se ne sbattono, se ne sbattono, e allora qual è la soluzione? È quella di con un esposto che non costa niente, segnalare alla procura e guarda caso sui navigli qualcuno ha cominciato a fare i controlli, ma dopo che i cittadini hanno fatto questa azione, perché passano le maggioranze ma purtroppo le cose rimangono lì, quindi la nostra importanza è anche quello di accedere agli atti, e noi non paghiamo niente come consiglieri, accedere agli atti, hanno 30 giorni di tempo per risponderci, e darle alla cittadinanza, noi abbiamo una visione un po' più ampia come Movimento 5 Stelle, perché certe cose per noi dovremmo con un click scaricarle senza passare 50.000 uffici, bisogna cercare di facilitare questo percorso, io poi vi faccio anche un altro esempio, così per entrare nel merito, noi nella nostra zona abbiamo la via Bardolino, 30, che non ha l'allacciamento fognario, ma mi sembra una città come la nostra che non ha l'allacciamento fognario? Allora giustamente presento un'interrogazione per chiedere al lato provinciale se hanno in programma di fare questo allacciamento, allora lo mando in via larga, quello dell'informazione mi dice, sì sì, vado su, quarto piano, vado su, no ma guardi che qua l'altro non c'è più, ah non c'è più, beh quello l'altro mi ha detto che è su, ma per dire come è oltre il comune, bene, vado in via Dogana, eh sì ma guardi mi hanno fatto il trasloco, l'abbiamo perso probabilmente durante il trasloco, ecco un atto pubblico perso così, no? E la risposta qual è? Questi cittadini, non è economico fare 400 metri di tubatura, arrangiatevi, eh? Quando uno costruisce una casa ha l'obbligo di fare lo scarico fognario, ma dove la mette l'acqua nera, dove vanno a finire, eh? E ciononostante noi e scommetto in tutte le zone ci sono degli immobili che non hanno lo scarico fognario, ditemi voi, ditemi voi, ecco allora bisogna arrabbiarsi con chi ha quel potere tale che gestisce le cose pubbliche solo indirizzandole dove meglio crede, perché questo è un fatto totalmente negativo, tra l'altro questi cittadini hanno dovuto fare delle vasche, hanno fatto anche il mutuo, poi c'è una roggio che non gli passa l'acqua e quindi sono conciati da buttare via, ecco la funzionalità dell'interrogazione, l'atomo ha detto nero su bianco che non faranno questa cosa, ecco in effetti sì, noi in zona 6 non abbiamo presentato una mozione, perché per saltare quello che è il teatrino, il dibattito, dove qui non la, l'interrogazione la si presenta, la si illustra e poi come l'esempio che vi ho fatto la seguo, devo andare in via larga per sapere il perché e il per come, è ovvio che ognuno di noi anche durante il giorno lavora, non è che è in giro così tanto per fare una bella passeggiata, quindi in certi casi vanno seguite e ovviamente la collaborazione degli attivisti è importante, perché se noi 6 mesi fa abbiamo deciso di contattare la fiera di Sinigaglia, io non ce la faccio, magari la contatta l'attivista e questa è una cosa importante, sempre per mantenere attiva quella che è la nostra attività, cioè devono sapere che hanno un punto di riferimento e che noi possiamo aiutarli, però sappiate che oggi io in Consigli di zona sono uno, se oggi dovessimo andare a elezioni raddoppiamo e tripliceremo, perché noi vogliamo, siamo candidati per cambiare questo sistema, grazie. Buonasera a tutti, sono Manuel Filini della zona 7, sarò più sintetico dei miei consiglieri che mi hanno preceduto. Una cosa che non hanno detto gli altri consiglieri è che noi abbiamo rinunciato ai due privilegi che aspettano ai consiglieri di zona, che sono il pass per parcheggiare sulle strisce blu e gialle della zona e nelle zone limitrofe e allo sconto per l'abbonamento all'ATM, quindi sono piccoli privilegi ma noi abbiamo comunque preferito rinunciare. nella vita io sono membro di un gruppo di acquisto solidale di Baggio e lavoro in un'associazione che promuove il consumo critico a Corsico e come diceva padre Zanotelli noi votiamo ogni volta che facciamo la spesa e secondo me il voto che faccio io quando faccio degli acquisti a un peso maggiore rispetto a quello che faccio in consiglio di zona. Questa è già una forma di delusione nei confronti di questo organo e come ha detto Mattia ci sono delle delusioni arancioni e le abbiamo avute anche in zona 7, in particolare in riguardo alle mozioni che abbiamo presentato riguardo alle riprese video che ci hanno bocciato. Prima abbiamo presentato una mozione per richiedere le riprese e ce l'ha bocciata, poi una richiesta di modifica a regolamento per regolamentare appunto le riprese e ci hanno respinto anche quella e poi mi ha fatto una mozione riguardo all'adozione del comune di decoro urbano per segnalare i problemi appunto legati al decoro della città, però in commissione di decentramento non è passata anche questa, per dei motivi secondo noi futili riguardo al fatto che AMSA avesse già uno strumento che è fondamentalmente un'applicazione per smartphone che non tutti possono utilizzare e quindi secondo noi andrebbe rivista, tant'è che a Roma pochi giorni fa hanno deciso di adottarlo, quindi secondo noi una grandissima delusione che il comune di Milano non adotti un servizio tra l'altro gratuito per i cittadini dove possono vedere i problemi che vengono segnalati e l'eventuale risoluzione del problema. Lascio la parola al mio collega Paolo Conconi della zona 7. Ciao a tutti, io sono Paolo Conconi, ho 26 anni, studio giurisprudenza, ho scelto giurisprudenza perché sono profondamente innamorato della nostra Costituzione e quindi è stata una scelta più per ideologia che come prospettiva futura. A parte la scelta, a parte giurisprudenza, come Manuel sono diventato vegetariano vedendo in questa scelta la risoluzione di gran parte dei problemi che abbiamo. A seguito di questa scelta ho coltivato la mia passione per il board watching, quindi per l'ornitologia, per il verde in generale e questo in consiglio di zona ci torna molto utile perché la zona 7 è la zona con più verde a Milano e ha anche il maggior numero di centri sportivi e in questi ultimi dieci mesi che sono consigliere ci siamo battuti per la tutela del verde, soprattutto per quanto concerne il parco delle cave che è nella zona di Baggio. È praticamente il parco più conteso dal consiglio di zona in quanto è bacino elettorale dei vari partiti presenti in consiglio. Poi non voglio raccontarvi episodi specifici, in generale vi voglio dire che noi siamo etichettati in consiglio di zona come i moralizzatori perché ci battiamo contro quei consiglieri che falsano le loro presenze nel foglio firme per percepire il gettone di presenza oppure oltre a falsificare gli orari di ingresso e di uscita fanno dell'altro durante le commissioni. Chi compila i verbali di commissioni precedenti, chi si guarda la partita sul telefonino, chi chatta, su facebook eccetera eccetera. Per questo motivo abbiamo chiesto più volte a diversi consiglieri di rinunciare al gettone di presenza, cosa che non hanno mai fatto. Le diverse mozioni che abbiamo presentato ci sono state tutte bocciate, a parte una, una mozione urgente presentata in consiglio che riguardava gli ascensori, il malfunzionamento di un ascensore in particolare in una casa dell'Aler, gestita dall'Aler, quindi condizioni in cui di fatto c'erano anziani e disabili sequestrati in casa e diciamo che vista la situazione la maggioranza e l'opposizione si sono visti costretti a darci ragione. Però per quanto riguarda tutto il resto c'è proprio la volontà da parte della maggioranza di non far apparire le proposte non solo da parte nostra ma da parte dell'intera opposizione. Questo perché c'è la volontà di far vedere ai cittadini di come solo la maggioranza si adoperi per fare qualcosa. Infatti le diverse proposte che noi abbiamo fatto sono state trattate soltanto a livello...